Echi Buonasera a tutti, buonasera Ciao Echi Ciao Michelle Come stai? Sono prontissimo? Sei prontissimo? Non posso ancora credere di essere arrivato fino alla fine di questo grande show Sei arrivato e non solo, ci hai meravigliato perché oltre ad essere andato sempre bene ci hai anche sorpreso due volte perché sei uscito proprio dalla tua comfort zone è stato chiesto e tu l'hai fatto hai cantato in italiano egregiamente per cui sei stato veramente bravissimo e adesso noi ovviamente ci aspettiamo tutti che tu ci sorprenda ancora Dai 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 Grazie a tutti 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 Non è importante Grazie a tutti È arrivato il momento di sentire Echi con tappeto di fragole Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti